Sì, vantaggio con il rattoglio, andiamo a chiuderlo, e l'ultimo è il suo, il fatto Giannuzzi di fisico, è un ideale di canale, si fa sempre di conto dei falli, e i passaggi di gli assist per i compagni. Giannuzzi imposto contro Pellegrino, il tiro, danca nei sottopi, con il tema che poi Giannuzzi deve essere male, con il controllo di Giannuzzi, 1-4-0, Giannuzzi! Apposta di Chibonso contro Lombardi, il raccoppio di Giannuzzi che poi recupera, e va a stoffare i signori, il controllo di transizione, e va a schiacciare! Giannuzzi, poi Serni e Marinetti per lui per intrazione, tiro a corto, ma Kerrani rimasta l'attacco preso, sopra la testa, Zili per il grande giro, attaccio il conto di Marini, la scalla da Monanti, poi va a cercare, Giannuzzi post-falso contro Zili, Kerrani giocata anche di Giannuzzi. Giannuzzi con il controllo di Giannuzzi, voglia le voglia le sottopi! Ehi, guarda per Giannuzzi, mi aspatti, mi prendeci il suo dito! Segnare! Sottopi, poi lancia! Giannuzzi che controlla e Parz che c'è! Lotto 5! Lo preferisce non tirare, manda un po' spasso da Fulhan, Fulhan contro Giannuzzi, grande lavoro di Giannuzzi, anche grande lettura di Parz, che avvicina la palla, diventa nell'angolo a Italiano, parte Parz per Giannuzzi, che segna! E' piccolino, ma molto, molto spasso! Ed ecco Giannuzzi che provano a sfruttare proprio il vantaggio di centimetri nei confronti! Caraglietti, come la rota, guarda il passo per tornare a Giannuzzi, che si mette sopra, non dovrebbe essere stata carenza di Giannuzzi, va a segnare! Due punti! Lombardi, verrà consigliare a Marini, si va da Parz, per a Parz, verrà penetrare, scarica alla fine, il prelittio degli annuzzi, dal gometo Giannuzzi! per difendere, questo mini vantaggio appena accumulato, che viene... ...la parte dei suoi, in questo processo, zonato, ok, intanto, Napoli, trova comunque... ...con la maglia nella crescente, i marini, a colpa, a Mastellari, i monadi di poco per le ospite, sono a cercare, gli annuzzi ancora! Guardate qui da giocare! Caraglietti, scarica per gli annuzzi, questo vigli e ci va da la niente! Vieni e ci va da la niente! E' questo, Gli annunzi blocca per lui, che non cambia sul meglio, la riga accoppiata a Sanders, gli annunzi blocca per la posizione, il tuo maschio è un mismatch, gli annunzi con un po' che viva. Gli annunzi da sotto! A calcarsi, tra l'opera da 3.000 in questa stagione, il giore non è che ci viene in rosso con il suo 41%, altra panna butta 3.000 da Sansevino, e questa volta gli annunzi! Sulla barca che poi, valla gli annunzi, che giustamente si ferma poi, ecco il posto, quello che si scolta e cazzo, molto bene, molto bene! Non per il depilagine per i giornatori di Napoli riuscire a prenderlo, Napoli ha pagato questo più contro di neppospasso di gli annunzi, scortellate contro altri annunzi, si civa gli annunzi!